basta con il suo telefono no, è sequestrato stavola, stavola vai arzucchi pronto? pronto un pennellino non sei carico calmo, calmo passami un ferro qua guarda che barbetta che hai fatto il pizzetto di Toretto vai, vieni qua con il pizzetto mi tocca il pizzettino pizzetto di Toretto il pennello non si tocca madonna, ma dove l'hai presa lì? basta una storia dura 15 secondi no, voglio fare una oltranza proprio così, sì, sì, oltranza guarda questa oltranza ma sei stupido ho presa la grande dal pugnole suo e guarda che vi siamo finest buonissimo numero uno ora stai iniziando a vestirti bene ma grazie a lui, no? grazie a te non lo so ero, guarda qui la knew ero, si svinge ma ci si interprets si chiude siamo chiuse i fuori siamo州 eccezio No, 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 no Stavolta siamo seri, vero? Serissimi Serissimi Allora, come avete visto nelle nostre storie Ci sono qui quell'associazione che si chiama We Africa Di Adriano Di Adriano Che vorremmo aiutare E lo faremo, adesso stiamo trovando il modo Però per aiutarla chiaramente abbiamo bisogno anche di voi Quindi state attenti Nelle prossime storie Nelle prossime, sì Nei prossimi giorni Perché comunque non è mai facile organizzare il tutto Però noi ci metteremo sia la faccia Che le nostre forze, vero? È la forza Quindi occhio Cappuccetto rosa In giro Pronto, anzi Peppo Pig sempre Secondo me st'inverno è l'inverno del rosa Chissà Che è più alta di me 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 finalmente auguri amico mio dopo campiano è ancora qua davvero sempre 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 ciao capi come stai? facci piano festeggiamo il compleanno di Alessandro la panna è buona la panna è buona non ci fanno i giochi con la panna